Siamo in ricordo che i relatori parleranno fino alle 18.30, dalle 18.30 alle 19.00 io porrò in diretta le domande che durante la solita situazione di gene, dove abbiamo la nostra sauna con il nostro bagno turco, dei lettini all'interno, una parete vetrata con degli scorrimenti e quindi una proiezione anche verso una zona giardino, dove si elimina, quali sono i dispositivi per eliminare la condensa all'interno del bagno turco? Come detto, una volta che l'ambiente si raffredda, ovviamente…